Basim ibn Shaq. Sei pronto ad abbandonare tutto quello in cui credi? Lo so. Sei pronto a rinunciare a tutto quello che più ti è caro? Sì. Sei pronto a cambiare vita e percorrere la via delle ombre? Sì, lo so. Allora, dall'oscurità entrerai nella luce. E dalla luce tornerai nell'oscurità. Scolpisci nella mente le regole che hai giurato di osservare. Trattieni la lama dalla carne degli innocenti. Nasconditi in piena vista. Non compromettere mai la confraternità. Cosibile? Oggi! Oggi e per sempre, tu sarai un occulto. Oggi e per sempre.